Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. In questo momento i juventini e i romanisti si disperano. Non è stato un gran sorteggio. Roma, Barcellona e Juventus Real non è che ci potessimo aspettare di peggio, diciamo così. L'urna non è stata benevola, però dobbiamo andare a vedere quali sono le cose positive, se ci sono, quali quelle negative. Purtroppo per noi, e quando parlo di noi parlo sia di Juventus che della Roma, sono in maggioranza, secondo me. Allora, in primis parliamo della Roma. Allora, la Roma un sorteggio peggiore non se lo poteva augurare. Per affrontare il Barcellona in questo momento, che è una squadra molto in forma, con un Messi sugli scudi. Non diciamo che sia un miracolo il passaggio del turno, perché non voglio esagerare, ma sicuramente molto, molto, molto difficile. E' chiaro, auguriamoci di avere uno Dzeko in grande forma, auguriamoci che la Roma non sbagli nessuno delle due partite, ma sicuramente è un impegno che definirlo proibitivo è dire poco. Sicuramente a Barcellona saranno un po' più tranquilli, anche se sappiamo bene che è una squadra che rispetta sempre molto gli avversari che ha di fronte. Ciò non toglie che, se andiamo a vedere l'accoppiamento, è ovvio che sono più contenti i tifosi del Barça che quelli della Roma. Questo mi sembra una cosa ampiamente ovvia. La Roma si deve scontrare con una squadra che è al top da anni, una squadra che ha dimostrato a più riprese di essere una candidata per la vittoria finale. Questo nessuno lo discute. E sicuramente dovrà provare a giocare quantomeno ad armi pari, ben sapendo di non esserlo ad armi pari. Il Barcellona ha giocatori che con quelli dalla Roma hanno poco a che vedere. Chiaramente, ripeto, ci vorrà una grande Roma. Bisognerà essere coscienti dei propri mezzi senza illudersi sotto nessun punto di vista, perché questa non è una doppia sfida che può creare illusioni in modo positivo. Però ciò non toglie che nel calcio non si sa mai e alle volte arrivano i risultati che non ti aspetti. E io me lo auguro davvero di cuore per la Roma che possa ottenere quello che forse in questo momento nessun tifoso giallorosso si augura e spera. E' chiaro che sarà una partita complicata, una partita in cui la tattica per la Roma dovrà essere quella certamente attendistica, perché non è che la Roma si potrà buttare all'attacco per 90 minuti. E sappiamo benissimo che il Barcellona ha un attacco che è mortifero sotto tutti i punti di vista. Quindi la Roma dovrà avere una tattica di contenimento e cercare di colpire il Barça in quelle poche occasioni che la squadra del Barcellona permetterà. Però, ripeto, ci vorranno da parte della Roma due partite perfette. Perfette. E questo è quanto per quello che riguarda la Roma. Quindi in bocca al lupo alla squadra di Di Francesco. Per quello che riguarda la Juventus, secondo me la Juventus se la gioca contro il Real Madrid. Allora, credetemi, se quando stamattina mi sono alzato qualcuno mi avesse chiesto «Secondo te chi peschiamo?» avrei detto il Real Madrid. Non so perché, ma c'era una vocina dentro che me lo diceva. «Peschiamo il Real Madrid». E francamente vi dirò, non sono scontento. Non sono scontento perché io credo che il Real nella doppia sfida sia una squadra battibile. Nella finale è una squadra letale, difficilissima per tutti da affrontare e nove volte su dieci chi incontri il Real in finale perde. Nella doppia sfida io sono convinto che la Juventus abbia tranquillamente il 50-50% di passare. La Juventus è una grande squadra, lo ha già dimostrato. Non dimentichiamoci che gli anti-juventini erano tutti convinti che la Juventus con il Tottenham non passasse. Invece in Inghilterra siamo riusciti addirittura ad andare a vincere. E questo è sicuramente un segnale importante. Questo per dire cosa? Per dire soprattutto che noi non siamo contenti di aver pescato il Real. Avremmo preferito il Liverpool, avremmo preferito il Siviglia. Ma io sono convinto che anche loro non stanno facendo salti di gioia, proprio perché li affrontiamo nella doppia sfida. E mi auguro che ci siano dei tifosi spagnoli del Real che mi stanno ascoltando per poter avere anche delle loro risposte in merito, per sapere se sono contenti o meno di questi accoppiamenti. Io ripeto, io so benissimo che abbiamo di fronte una delle squadre più forti, anzi forse la squadra più forte del mondo, perché il Real Madrid per loro parlano anche le Champions, ne hanno vinte 12, quindi è una squadra sicuramente inavvicinabile. Però, ripeto e ribadisco, sono convinto che nella doppia sfida la Juventus se la potrà giocare. Se la potrà giocare. Abbiamo bisogno chiaramente di recuperare qualche giocatore che non è ancora al top. Mi piacerebbe avere a disposizione Quadrado e Bernardeschi, ma purtroppo non è possibile. Anzi, da quello che risulta per i due giocatori, sembra addirittura che la stagione sia finita. Auedes è un giocatore che rimane un oggetto misterioso, perché adesso ha un altro infortunio ancora e per un altro mese sarà out, quindi è un giocatore che dobbiamo rispedire al mettente il prima possibile. Per il resto ci giocheremo le nostre carte. Io sono convinto che la Juventus deve certamente rispettare il Real, certamente deve fare in modo che il Real Madrid possa essere considerato quello che nella realtà è, però non deve avere paura del Real. Deve avere l'umiltà necessaria per giocare, ma allo stesso tempo deve essere la Juventus. E quindi per una volta non mi auguro di vedere le solite interviste di Buffon, spero che non lo facciano parlare, perché per me Buffon fa delle interviste da perdente, da coniglio bagnato. Mi piacerebbe vedere questa volta un'intervista dove si dica andiamo a Madrid per cercare di batterli. Sappiamo di aver di fronte la squadra più forte del mondo, ma cercheremo di far di tutto per buttarli fuori. E io sono convinto che la Juventus ha delle buone possibilità di potercela fare. Chiaramente, alla fine, auguriamoci che sia per la Juventus sia per la Roma parli soltanto il campo, che non ci siano errori arbitrali, questo me lo auguro di cuore perché è importante. E speriamo di vedere quattro partite, veramente quattro partite, sia perché le partite sono quattro, ma quattro partite riferite tra andate e ritorno tra Juventus e Roma. Speriamo di vedere quattro belle partite e per una volta che la fortuna magari ci assista e che tutte e due riusciamo a passare in semifinale. Sarebbe una cosa da premio Oscar. Quindi forza Roma e forza Juve fino alla fine. Perché comunque Kiev ci aspetta. Dovremo passare dal Real Madrid, ma Kiev sempre là sta. Ciao a tutti.